Bentornati in un nuovo episodio di National Geographic Viaggio. Adesso scopriremo queste buffe razzi di animali. Come vedete, potete vedere bene un animale. Anzi, tenti. Un animale che si è già estinto. Che è questo anchilosauro. Adesso è diventato meno forte. Perché? Perché non si è evoluto e purtroppo ormai è diventato molto piccolo. E ha la bocca molto piccola. Lo sapete perché non si è evoluto? Perché l'anchilosauro mamma ha deposto un uovo. Quando è successo l'asteroide che ha portato in via ad essi insieme molti dinosauri. E così questo piccolino è rimasto qua. Tanto non è così aggressivo. Mangia degli animali molto piccoli. Questa anchilosauro vuole mangiare questo koala dell'Australia. Però purtroppo è troppo grande. Quindi lui non se lo può mangiare. Questo koala australiano va via per fatti suoi. Ma guardate che strano rettile. Questo qua è un rettile dell'area paleozoica. Che ovviamente anche lui non si è evoluto. Eh sì. Che è anche il papà di questo anchilosauro. Vediamo un po' dove sta andando. Dove sta andando? Vede qualcosa di arancione. È un uccello! Lo prende e lo azzanna. E poi lo dà per cibo al piccolo anchilosauro. L'anchilosauro era molto affamato. Così però sta mangiando. Nel frattempo anche il koala sta cercando del cibo. Quindi si avvia verso il bosco. Come vedete il bosco è così grande. Oh! Guardate! C'è un animale erbivoro. Che è sempre un dinosauro. Che anche lui si è stinto. L'aggio è il dinosauro. È molto piccolo perché non si è evoluto. Anche lui non si è evoluto. Quindi adesso il koala lo prende, lo azzanna e lo porta via. Adesso anche il piccolo koala sta pranzando insieme all'anchilosauro. Guardate! C'è un pellicano! Un pellicano... Anzi, un tucano, scusate. Questo tucano, che si trova nell'Europa occidentale, adesso ha trovato il suo cucciolo. Adesso ci sono gli animali più sporchi della Terra, che sono gli arcitopi. Loro vivono nelle parti più sporchi dell'Africa, anche loro nell'Europa occidentale, in Giappone e in Cina. Questi piccoli ibridi, che sembra tanto un coniglio e un topo, sono in realtà dei topi e loro mangiano, sono onnivoli, quindi mangiano sia erba che carne. Stanno mangiando adesso l'erba. Però, adesso arriva la scena. Guardate! Questo è il figlio del tucano. Lui lo vede e se lo mangia. Loro, anche loro riescono a mangiare degli uccelli, ma più piccoli, perché loro sono molto, molto, molto piccoli. Vivono anche nelle fogne. Questi animali sono davvero sporchi. La mamma tucano si arrabbia e decide di sgridare questi topi con una bella punizione. Li sbatte fuori. E prende il suo cucciolo ormai smangiucchiato. Guardate! Questo è lo strozzo del Madagascar. Lui è l'unico uccello che non vola. Ma ce ne sono tanti che non volano. Tipo il pinguino. E poi tanti altri. Guardate! Un armadillo! Vedete questo armadillo? È molto pigro. E non si vuole far vedere da quel rettile dell'era paleosoica. Quindi si nasconde dentro il suo buscio. Questa è la caratteristica dell'armadillo. Nel frattempo la mamma tucano viene, prende il suo cucciolo, lo mette in questa specie di erba che per lei gli sembra una bara e lo copre. Ecco, l'ha sepolto. Anche se non riesce a sepolto, lo stesso vale. Nel frattempo i topi, che sono rimasti qui, si vogliono vendicare della mamma tucano. Ma se no li avrebbe mangiati in un boccone. Quindi dovrebbero negare a tutto. E quindi si mettono lì, vedono il figlio morto che è stato sepolto e continuano a mangiare erba. La mamma tucano si arrabbia ancora e dice, non vi voglio vedere nel proprio territorio. E quindi li scaccia ancora via. E poi dice, se la prossima volta vi vedo, vi mangio. Questa volta questi topi non avevano più via di scampo. Quindi decisero di andare in mezzo alle macchine. Perché tanti esploratori vedono com'è questa vita. Ma attenzione, vi ho già detto che questi animali sono sporchi. Quindi fanno molta attenzione a non toccare le macchine. Perché hanno paura che poi le persone lo calpesse, li calpestano. Perché loro sono molto piccoli. Non sono molto grandi come un essere umano. O più di un essere umano, come un dinosauro. Questi animalitti, che sono molto piccoli, ce ne stanno anche andando. Ce ne stanno andando. Come vedete, il koala e l'anchilosauro hanno finito il pranzo. E adesso vogliono andare. Questo koala si sta avviando in questa macchina. Attenzione! Ha aperto gli sportelli. Oh no! Ma vuole solo giocare. Non vuole fare niente. Poi li richiude. E se ne va. Ma qua passa un altro animale feroce. Il toro rosso! Questo toro si trova nell'Europa occidentale e in Giappone. Come vedete, questo toro rosso, che sembra molto infuriato, va alla ricerca di un animale molto grande, però non da mangiare. Ma per sfidarlo ha una battaglia di duello per vedere chi vince. Come vedete, il toro infuriato chiama l'anchilosauro. Ecco, come vedete. Ha vinto l'anchilosauro. Adesso ritorno al suo pranzo pomerideano. Si mangia tutto il toro. Ma non è che potrebbe bastare? Per lui no! Nel prossimo episodio esploreremo il pesce oblus, un pesce che si trova nei fondali marini e molto verde e molto colorato. Sfidratto al suo pranzo pomerato. Grazie.